Quartieri al centro. Nella programmazione della nuova città le zone di periferia e le frazioni diventano protagoniste. Noi di Rete Veneta qualche giorno fa siamo stati a Bertesina dove i residenti attendono la nuova piazza. Oggi portiamo la loro voce all'assessore Mattia Ierardi che spiega cosa prevede il progetto. Quella più che una piazza in realtà sarà veramente un parco piazza quindi la volontà assoluta di creare aggregazione proprio di fronte alla chiesa ma in uno spazio centrale del quartiere per dare sfogo sia ai bambini che agli adulti per permettere una passeggiata ma soprattutto in un'area verde molto molto particolare perché è bellissima anche il livello architettonico e quindi un risalto ulteriore del quartiere. Una risposta concreta alle richieste dei cittadini di Bertesina che si ritroveranno un centro di aggregazione e di riferimento per tutta la frazione. Più di una piazza, un parco con diverse zone, l'area del sagrato della chiesa di San Cristoforo, l'angolo di Villa Marcello, l'arena sul prato e uno spazio per i giochi con scivolo e altalena. Tutto per ridare il nuovo smalto alla vita del quartiere. Ormai manca davvero poco. Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo già collaudato anche la parte dei parco giochi quindi per permettere ai bambini di poter utilizzare l'area ludica. Mancano alcuni piccoli particolari perché si tratta di inserti fatti su misura in ferro battuto, quindi alcune sedute, alcune panchine che stanno terminando in questi giorni la produzione e poi andremo a installarle. Un punto di ritrovo per il quartiere, finalmente una piazza per quel quartiere che l'aspettava da anni e se la meritava.